Allora, giovedì gnocchi. Prego la ricetta, nonna Lina, prego. Scaldo le patate, le schiaccio, le metto sul tavolo con la farina e con l'acqua. Impasto, faccio i... come si dice? Come si dice? I rotolini, poi li taglio. E li incavo. E fatti qui, è fatto gnocchi. E quanta cottura? Cottura non ci vuole niente. Appena salgono a galla si possono condire. Come li fai? Col sugo? Col sugo. E basta. Il sugo come lo prepari? Sugo bollito, perché mio figlio mangia bollito. Mio figlio sarei io. Il sugo bollito con un poco di cipollina e metto sugli gnocchi col parmigiano. Va bene. E' stop. Tanti saluti. Saluta, saluta. E' fatto. Saluta, vuoi salutare? Ciao. Ciao a tutti. Grazie per l'attenzione. Ciao. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti.